Quel che è certo è che l'Inter deve recuperare una gara, ma in tutto ciò si porta a casa quella che è una partita pesantissima, lo scontro diretto, dopo che l'andata era terminata in pareggio, questa volta gli uomini di Simone Inzaghi vincono questa sfida, molto importante con la Juventus, lo scontro diretto, ed è un primo tentativo di fuga perché chiaramente adesso l'Inter ha più quattro, ha una gara da recuperare, il margine non è esagerato, però comunque sta di fatto che l'Inter ha, se non ha il destino nelle sue mani poco ci manca, comincio da te Tommaso. Ah partite agli sconfitti allora? Ah non pensavo. No guarda non facciamo inizialmente la polemica, io vado in ordine di video, siccome può stare proprio un po' di pepe. No 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 posso stare perché voglio ascoltarvi tutti, cosa dire Francesco, io l'ho detto tante volte insomma, non andavamo a Milano per vincere, non andavamo a Milano per rimporre il nostro gioco. L'Inter ha quattro dei più grandi talenti nel mondo, l'Inter è superiore in tutti i reparti, cosa che dopo Bastoni, miglior braccetto di sinistra d'Europa nel mondo, Pavard uno dei migliori braccetti di destra del mondo, Cialanoglu il miglior giocatore in quel ruolo nel mondo e Lautaro uno delle punte più forti del mondo, per me, per mia valutazione soggettiva. Detto questo, in tutti i reparti la Juventus era inferiore, la Juventus ha, adesso voi mi direte, gli ingaggi più alti ha speso di più, sì, assolutamente sì, ma purtroppo se diamo peso a questo allora Vlaovic non vale 70 milioni che abbiamo speso, Chiesa non vale 50 milioni, eccetera, eccetera. Quindi, a parte questo, la Juventus, secondo me, alla fine ti posso dire, io il risultato lo prendo, sono risultatista 1-0, ma se l'Inter effettivamente doveva distruggere la Juventus io questa cosa non l'ho vista, non l'ho vista e ho visto un Inter che ha vinto 1-0 comunque con un autogol e sono ancora fiducioso, sono ancora fiducioso per il campionato perché la Juventus, per me, anche non perdendo di tanto, cioè non subendo troppo un risultato pesante, ha mantenuto l'ambiente, ha mantenuto comunque compatta la squadra, anche da quel punto di vista che è mentale, che per me lo ritengo molto importante, avendo una squadra anche giovane e inesperta ad affrontare questo tipo di pressioni. Allora, prepari ad andare dagli altri, io ti faccio una domanda perché poi mi hai lanciato anche un assist, ma ci arriveremo più avanti. Allora, domanda secca, pesa più questa sconfitta o magari la partita prima allo Stadium contro l'Empoli, dove quella magari... Quella pesa di più, è ovvio. È ovvio. Perché poi Capello diceva, storicamente gli scudetti si vincono anche con le piccole, secondo me quelli sono punti, due punti in più che ti mancano. È ovvio, è assolutamente d'accordo, è quella la partita che la Juventus doveva vincere, ma lo sa tutta la squadra, infatti c'è più ramarica quella perché per questo 1-0, senza dubbio. Chi sa di calcio lo sa queste cose, poi io sento tantissime stronzate in giro e le senti anche tu, e le sentiamo insieme e ce le condividiamo anche nel gruppo Whatsapp spesso. Però ho imparato a vedere il calcio anche in maniera diversa e qui sono tutte persone che stimo e che sento anche in privato, tra l'altro. Io penso che chi guarda il calcio deve guardare anche questo, non deve dire, eh ma l'Inter gioca bene perché lo dicono i giornali. L'Inter gioca bene ma non è un Inter, secondo me, che è pronta, ti dico di più. Allora, l'11 dell'Inter lo reputo, lo continuo a dire, l'11 di tornare all'Inter lo reputo uno dei migliori d'Europa, tra le tre, eh, per me ripeto, tra le tre. Ma se l'Inter deve affrontare tutta la stagione rimanente, facendo bene in Champions e continuando con questa marcia in campionato, secondo me non ha la rosa all'altezza per fare questo tipo di percorso. Quindi per questo sono più fedecioso per la Juventus. Ma io non sono in realtà di questo avviso perché poi è chiaro che pesano soprattutto più i punti persi con l'Empoli, però per l'Inter vincere con la Juventus è un toccasana, questo è chiaro perché se guardiamo l'altra faccia della medaglia. Salvatore, vengo da te perché mi ricollego a quello che stava dicendo Tommaso. Dica! Perché poi oltretutto c'è stata, non una polemica, ma comunque una diatriba tra Lele Adani e tutto il resto della tribuna della Domenica Sportiva perché lui sosteneva che poi il merito della valorizzazione di certi singoli è soprattutto di Simone Inzaghi perché diceva che in sostanza che la Juventus magari per i suoi giocatori aveva investito di più perché parlava di Rabbeau, parlava di Locatelli, laddove l'Inter, adesso sto facendo degli esempi, aveva preso Mkhitaryan che non lo voleva nessuno e Cialanoglu che Adani diceva che, a parte che vabbè, che non lo voleva nessuno, che poi tutti quanti magari erano ancora, come posso dire, incavolati neri per quanto era successo a Eriksen e nessuno poteva pensare che Simone Inzaghi potesse cucire sul turco un nuovo ruolo fatto a misura per lui facendolo diventare un top mondiale. Quindi lui dava dei meriti, soprattutto a Inzaghi, sostenendo che poi la rosa della Juve non fosse così inferiore. Allora, per quanto riguarda il discorso di Adani, io l'ho sentito e devo dire che mi trova d'accordo, ovvero Rabbeau e Locatelli di fatto sono costati più di Mkhitaryan e di Cialanoglu, poi che sia stato il campo e il lavoro di Simone Inzaghi a valorizzarli è sotto gli occhi di tutti. Noi ci dimentichiamo che Rabbeau è un vice campione del mondo, titolare in una nazionale mostruosa come quella della Francia. Locatelli è comprato per 40 milioni dal Sassuolo, uno dei migliori prospetti in circolazione all'epoca. L'Inter prende Cialanoglu a parametro zero dalla Milan, dandogli 500 mila euro in più di ingaggio rispetto al Milan. L'ha preso perché purtroppo a Eriksen, ricordiamo agli europei, è successo quello che è successo. Mkhitaryan non lo voleva nessuno, la Roma non lo voleva. No, non so se qua Kajser ti potrà contraddire, perché poi in tanti a Roma magari Mkhitaryan lo rimpiangono, perché lui aveva giocato anche un'ottima finale di conference contro il Friuli. Ma lui può giocare un'ottima finale di conference, però il contratto perché non gli hanno rinnovato? No, ci hanno provato se non sbaglio, no Kajser? La Roma ci ha provato a rinnovare il contratto, l'Inter offriva di più e molto più prestigio. L'Inter ha offerto più di ingaggio a Mkhitaryan ed è arrivato, ma non credo che... Io mi ricordo quando è arrivato Mkhitaryan all'Inter, tutti dicevano ma chi è? Già ha fatto il suo tempo all'Arsenal, la Roma è venuta per svernare, io me le ricordo tutte queste parole. E giustamente il campo con Simoninzaghi... No, questo è vero, però che la Roma non lo volesse rinnovare è un'inesattezza, cioè che poi magari nell'ambiente Inter sottovalutavano quello che poteva essere il suo operato con i Nerazzurri in campo... Ma chi lo sottovalutava nell'ambiente Inter? Che gli hanno offerto 4 milioni netti? No, i tifosi, i tifosi. Ma no, ma i pochi, nessuno. Ma Mkhitaryan comunque è un giocatore che già ha segnato in partite importanti, ha fatto gol contro l'Ajax in finale di Europa League, il Manchester United per quel 2-0, quindi è un giocatore che sa giocare queste partite. Io credo anche che l'assenza in finale di Mkhitaryan l'anno scorso contro il City sia pesata tantissimo sotto questo punto di vista. Però per quanto riguarda la partita di ieri, io credo che Adani non abbia detto nulla di sbagliato. Che la Juve abbia speso di più sul mercato è un dato di fatto, è la verità. Giustamente si parla di Vlaovic ieri perché ha sbagliato quello stop, perché non ha fatto il tiro. Va bene, avrà anche sbagliato. Ha fatto pure la rovesciata poi. Ragazzi, ma non gli è arrivato un pallone. Tu mi spieghi quando giochi a 50 metri dalla porta come fanno quei poveri Cristi, Ildiz e Vlaovic a farti la differenza. È stata una partita dove l'Inter ha avuto il pallino del gioco in mano e la Juve ha voluto difendersi per poi contraattaccare. Non gli è andata bene, ma questo è il gioco di Allegri. E chiudo dicendo che la Juve... Non è vero. Non è vero che è il gioco di Allegri. In quella partita è il gioco di Allegri. In quella partita. La Juve fa benissimo. Scusate un attimo, facciamo entrare anche Eros che era da un po' in pre-live. Ciao, Eros. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Grande, fratello. Al volo. L'Inter, la Juve fa benissimo a crederci. Non vedo tutto questo distacco dall'Inter, anche se ha perso lo scontro diretto. Sono quattro punti, potenziali sette perché l'Inter deve giocare il recupero contro l'Atalanta. Quindi finché l'aritmetica non condanna la Juve fa benissimo a crederci. Ed è giusto così. E poi, soprattutto, la partita di ieri poteva finire con un passivo più grande. È stata brava la Juve, in questo caso Scesni avendo fatto due parate incredibili. Una su Barella nel secondo tempo e quella su Arnautovic. E quindi bisogna fare anche i complimenti ai giocatori che ha la Juve. Poi, che non possono performare, ci può stare. Però la Juve è ancora lì e può rientrare. Io sottolineerei anche la prova di Bremer. Bremer è stato impeccabile. Perché poi, se andiamo a vedere la partita del centrale brasiliano, vado da Carci, ha controllato benissimo. Poi Lautaro, nel senso che poi Lautaro è stata la peggior partita dell'anno. Però, insomma, a Lautaro, figlio dei suoi 19 gol in campionato, non gli si può veramente imputare niente. Però, se vogliamo trovare anche le note positive della Juve, io dico Scesni e Bremer. Francesco, vengo da te, ma ti chiedo soprattutto a questo punto del campionato, dopo la ventitresima giornata, con l'Inter con una partita in meno, le tue percentuali scudetto. Ma, direi 80-85% l'Inter, che già partiva prima dello sconto diretto. Eh sì, sì, sì. Ma io non vedo... Io parto dal presupposto che, nonostante l'Inter sia grande squadra e tutto, ho paura che con l'Atletico Madrid possa finire male. Ma è una sensazione. Però, dovessi andare male, poi, non avendo neanche la Coppa Italia, a differenza della Juve, eh, a quel punto la strada si è in discesa, salvo proprio suicidi sportivi. Eh, io ho l'impressione, oltretutto, che la Juventus, alla luce della stagione, con i mille problemi, soprattutto extra campo avuti l'anno scorso, eh, quasi vada bene, mh, il secondo posto. Cioè, da Allegri fino anche a molti tifosi, eh, firmerebbero. Avrebbero firmato anche inizio stagione per un secondo posto, per tornare in Champions. Anche la stessa società ha fatto un mercato, se non sbaglio, a parte UEA, comprato proprio cash, non erano arrivati tanti giocatori. Forse era un anno, un po' di transizione, di ambientamento, di giuntoli e del nuovo staff. E poi, magari, già da gennaio, ma anche dalla prossima estate, arriverà, mi auguro per i tifosi bianconeri, una vera rivoluzione, perché la squadra adesso è forte. Eh, sono d'accordo con Bremer, che è un, forse uno dei migliori centrali difensivi, sicuramente del campionato, secondo me. Però, ecco, non a livello dell'Inter e, ripeto, c'è una sorta di, eh, di accettazione di un secondo posto. Quindi, della Serie Sì, se l'Inter cade, noi siamo lì, dobbiamo approfittarne, ma se no va benissimo il secondo posto. E questa mentalità un po' si è vista anche ieri, perché alla fine la Juve aveva un'occasione ghiotta, soprattutto dopo il pessimo pareggio contro l'Empoli, però, se non fosse stato per Scesni, io ho visto una superiorità, non dico schiacciante, ma quasi, poteva tranquillamente finire 3-4-0, nonostante l'occasione di Vlaovic, perché avesse fatto, magari, quel gol, quel controllo migliore, magari era tutta un'altra partita. Andiamo da Donne e poi vado anche da Nicola. No, 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 sulla risposta a Francesco, sempre provocatoria, tanto ormai, risposto prima a Salvatore, anche a Francesco. Scesni fa parte degli undici, cioè Scesni fa parte di calciatori, quindi il talento di Scesni è compreso tra... quindi una parata bella fa comunque parte della partita. Cioè, loro sono forti, hanno creato occasioni, ma la parata di Scesni fa parte della partita. Sì, però non devi essere contento... No, no, però Francesco, sempre 1-0 con la tua gol l'hanno fatto. No, lo so, però non devi essere contento di aver perso 1-0 piuttosto che 4-0. Cioè, io da tifoso giuventino, la squadra più gloriosa d'Italia, mi aspetto di vincere o di pareggiarla, non di aver limitato i danni. Non dico di te in generale. Hai ragionissima, infatti non faccio salte di gioia, però se permetti non sono contento, ma preferisco perdere 1-0, ripeto, non prendere un'imbarcata come nel derby del 5-1, piuttosto che... cioè, preferisco perdere 1-0, prendere 1-0 con gol di Gatti, perché mantengo... Voi siete uomini di calcio, penso che, ripeto, l'ambiente, lo spogliatoio sia importante. Prendere un'imbarcata di 5 gol dall'Inter, dei ragazzi come Ildiz, ma tutti, Miretti, lo stesso Gatti che non aveva questa esperienza, è importante mantenere l'ambiente. Poi è ovvio, non faccio salte di gioia se perdono a zero. Allora, andiamo a sentire anche Nicolas, sempre in chiave Juventus, perché lui è un grande tifoso della Juve, ma abbastanza equidistante. Mi ricollego a quello che stava dicendo soprattutto Francesco, perché poi parlava di sorta di rassegnazione da parte della Juventus che si accontenterebbe anche di un secondo posto, perché poi bisogna vedere poi la linea di confine tra le frasi di circostanza e quello che poi si dicono nello spogliatoio, perché se ragioniamo in questi termini, anche Massimiliano Allegri praticamente ha detto che l'Inter è oggettivamente più forte, probabilmente anche secondo lui vinceranno lo scudetto. Allora, io cercherò di essere il più oggettivo possibile anche perché sto rosicando ancora tantissimo per la partita, onestamente, però veramente tanto. Comunque, parto da due presupposti. Rispetto al Don, io pensavo quantomeno di non perderla, la partita, perché comunque Allegri queste partite di solito dimostra comunque di saper non perdere. Magari poi lei le vince male, magari riparte, però comunque... Lei in carta, insomma, dai. Esatto, non pensavo a una partita del genere. E comunque parto anche dal presupposto che ci credo ancora, no? Sia da tifoso, ma che probabilmente sono ancora illuso, però non lo so, quest'Inter, nonostante sia forte, cioè oggettivamente la gente che la paragonava l'anno scorso, non credo, non credo, cioè non sono d'accordo, perché comunque proprio tutt'altra l'Inter rigole consapevolezza, la vedi proprio da tantissime cose, anche dalle vittorie che fa alla fine, che magari l'anno scorso non capitavano, possono essere dei casi che comunque possono aiutare a vincere lo scudetto. Dopodiché, tornando appunto sulla domanda, allora, dal Lengri, io un pochettino l'ho vista questa cosa, perché rimprovero il fatto sia di come è sceso in campo, ok, che quello non mi è piaciuto, quindi lasciare troppo la partita all'Inter, perché comunque ha dominato, non c'è niente tanto da dire, sia, diciamo, dal secondo tempo rimprovero due cose. La prima è che io avrei messo, poi io sono un cretino totale, però avrei messo Chiesa, e avrei tolto un centrocampista, perché quantomeno te la giochi. E la seconda, Alessandro, alla fine, io veramente non riesco ancora a concepirla, cioè veramente. Quella senza senso, infatti. Non riesco proprio, cioè per me è andata in palla, non riesco proprio neanche a immaginare una cosa del genere. Quindi questi sono gli errori che faccio, che rimprovo a Allegri, che nonostante tutto appunto io, a me non piace fare le guerre. Sto che aiutano, che polarizzano, però Allegri l'ha deputato un buon alleatore, con dei difetti, come sempre, e quindi diciamo che solo questo io critico. Dopodiché, sul discorso della Rosa della Juve, non sono d'accordissimo, nel senso che la Juve ha un'ottima rosa. Secondo me la seconda, forse terza del campionato, se la giocano. Chi era la seconda? O Milano-Napoli. La Juve è sul livello di Milano-Napoli. Dai, c'è il rigore. Ok, voglio sentire. Che succede? Ha segnato la Roma, perché vedo che c'è il rigore. Seguiamoci il rigore in diretta, allora, dai. Il rigore per chi? Porta fortuna, Kaiser, è la seconda partita che ti hanno il rigore. Sono tutte live ormai. Ormai mi metto qua e mi invento i live. Ecco, l'Inter pure la vedi live. Scusa, Nico, che ti ho disturbato. No, vai tranquillo. Aspetta un attimo, facciamo una cosa, Tommy. Dagli la uno, così magari commentiamo anche il rigore in diretta. Vai, chiede un po', portalo, va. Facchita la porta. Facchita la porta. Chi è? Di Bala? Di Bala? Sì. C'è Makumbu che cerca di nervosire la situazione, sposta il pallone, disturba. Luca Marelli dice rigore discutibile. Che suspense. Va di Bala. parte, Paolo. E' la Roma! Coscia! Palla da una parte, il ragazzetto che sta in porta, dall'altra. Mamma mia, mamma mia. 3-0 per la Roma, questa era la Kaiser Mesche, non la di Bala Mesche. quindi, in tutto ciò, vi aggiorniamo anche in tempo reale, dallo Stadio Olimpico, dove i giallorossi conducono per 3-0 contro il Cagliari, di un grande ex Claudio Ranieri, però, mentre Kaiser balla, questa è la terza vittoria per Daniele De Rossi, ma lo possiamo dire, senza scaramanzie, perché... Vabbè, dai, si ferma qua, dai, basta, la prossima andiamo a mettere le cose come stanno in Chiara Roma. Diciamo che fare queste cose in live a Kaiser porta bene, però, torniamo un attimo sul discorso che stavamo facendo, inerente il derby d'Italia, tra quello che è stato, il derby d'Italia numero 248, tra Inter e Juventus e Nicolas, se volete aggiungere qualcosa, altrimenti vado dal tuo gemello diverso, il tuo gemello diventa in crescita. No, chiudo dicendo, chiudo dicendo che semplicemente appunto, la base della Juventus, secondo me, è buona appunto rispetto al Milan, per me il Milan ha comunque quattro giocatori, tre o quattro giocatori di un livello comunque molto molto alto, che sono Magnan, che secondo me è appunto il miglior portiere del campionato, e Teo Hernandez, che lasciando appunto stare il rendimento attuale, però comunque è il terzino sinistro più fatto nel campionato, e Leao, nonostante non mi piaccia, ha dimostrato di essere uno... Teo o Di Marco, scusa, non ho capito. Vabbè, a livello terzino, terzino io proprio scattivo, onestamente, poi Di Marco... In forma io mi prendo tutta la vita a Teo Hernandez, non me la voglia di Marco. Pure io, nonostante a me Di Marco piaccia. No, 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 ho capito, ho capito per questo. Ok, no, mentre la Juventus appunto, io critico due giocatori che dovrebbero essere appunto due dei più forti, cioè Rabiot e Vlaovic. Vlaovic, come sempre, non voglio far per avere il dibattito, secondo me è appunto un ottimo giocatore con dei limiti, perché Salvatore appunto prima diceva che ha sbagliato un controllo, però appunto non gli sono arrivati i palloni, sono d'accordo, però non è che ha sbagliato solo quel controllo, secondo me. Quel controllo è stato decisivo, ma il problema è suo che sbaglia un sacco di controlli, cioè devi migliorare su quel fondamentale. Però guardate ragazzi, io vi faccio una provocazione, cioè in una partita del genere poi sono anche poche le occasioni che ti vanno a capitare, soprattutto se giochi in una maniera come quella di Allegri. Ok, sbaglia il controllo, quello ci siamo tutti. Io ve la metto sotto un'altra prospettiva, perché poi lui ha avuto anche l'occasione della rovesciata. Faceva quel gol veniva giù lo stadio ragazzi, quindi poi bisogna vedere da che parte l'andiamo a vedere, perché poi se ci basiamo sui dati... È finita... Mi sa che non l'ha fatto quel gol, Francie, mi sa che non l'ha fatto quel gol. Credo che non l'ha fatto, non sarebbe finita uno pari. Ma sicuramente... No, oppure non l'ha avuto. Avesse fatto quel gol probabilmente veniva giù lo stadio. Ma Francie, ma si può parlare di occasione, a me non mi pare, cioè una rovesciata... Una rovesciata estemporanea, cioè è finita da... No, Sto facendo un esempio per dire che poi le partite vivono anche di fiammate e quella poteva essere un'altra occasione per far sì che la sua performance di punto in bianco, anche se la partita sua a livello personale è stata negativa, poteva cambiare tutto. Ma quello che... Però Francie, l'Inter ha avuto, l'Inter ha avuto, scusa se interrompo, al primo tempo la superoccasione di Turam, lì Bremer fa un miracolo difensivo. No, 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 ma che l'Inter abbia giù meglio questo... Il palo di Cianlanoglu. Il palo di Cianlanoglu. L'occasione di Barella e l'occasione... Ne ha avuti quattro nitide. No, ma io non ti sto parlando di questo, io ti sto dicendo... La Juve sono gatti, nitida, secondo me. Il tiro di gatti. Ma infatti su questo ti sto dando perfettamente ragione, nel senso che non ci sono dubbi che l'Inter abbia strameritato di vincere, però qui si analizzava la prestazione di Vlaovic e io stavo semplicemente dicendo che nell'arco di una partita, magari una partita come questa, soprattutto se giochi nella maniera di Allegri, sono anche poche le occasioni che ti possono capitare e lui poteva capitalizzare quelle due occasioni. E poi volevo dire, qui ci arrivo, che lui comunque ha fatto sei gol nelle ultime quattro, quindi insomma dipende poi da che parametro la vogliamo andare a vedere. Sì, Franci, ha fatto sei gol nelle ultime quattro e sono d'accordo con te, però Don ti può dire guarda le ultime quattro partite che lui ha segnato, con quale squadra ha segnato. Quando si alza un pochettino il livello... Però è anche vero che prima magari gli contestavamo il fatto che non segnava proprio, perché lui fa sei gol nelle ultime quattro quando a fine del giorno di andata ne aveva fatti appena sette. Quindi dipende poi da che prospettiva la si vuole guardare. Ok, però ieri c'è da dire che queste partite sono messi anche giocano sul piccolo errore e sui dettagli ieri quello stop in area è stato un dettaglio che ti poteva fare la differenza. Oppure anche cercare di provare a calciare invece di fare quello stop. Ma io guarda ti dico una cosa per assurdo, secondo me lo stanno criminalizzando anche più del dovuto, perché secondo me anche se lui avesse tirato al volo dove stava scritto che lui poteva fare un'occasione pericolosa o segnare? Secondo me... era nitida l'occasione secondo me era lì da solo era lì da solo Franci non so se lo so che hai visto la partita andiamo da mito che non l'abbiamo ancora sentito no se voglio fare una piccola difesa di Vlaovic nel senso comunque nella partita di ieri ci sono stati molte persone che hanno sbagliato a livello tecnico davanti alla porta c'è pure da dire questo non è stato il solo se poi lo vengono a fare la Juve no parlo in generale parlo in generale parlo soprattutto dell'Indo perché aveva avuto un importo chiaramente non può protagonare uno cioè Vlaovic comunque è stato pagato 80 milioni e ha una sorta di diciamo si porta dietro un'etichetta di pseudo fuori classe però secondo me ieri a mia sorpresa per quanto la Juve stava dietro a livello di intensità non è stata una brutta partita se proprio dobbiamo parlare non so se sei d'accordo con me nel secondo tempo nel secondo tempo nel secondo tempo è vero che sono stati dietro quando è stato chiesa è cambiata un po' l'inerzia della partita sì sicuramente sono stati dietro però a livello proprio di di corso di intensità secondo me non è stata nel secondo tempo non è stata così brutta quindi per dorare no però meglio dell'andata sì è un po' però è stata una punta molto più brutta da questo punto però la gata Blavic il gol l'ha fatto e anche Lautaro secondo me ieri i peggiori in campo sia Blavic che Lautaro secondo me Turan pure ha sbagliato un po' qualcosina perché anche là sul cross di Di Marco è vero che Di Marco mette una bella palla però forse l'ha messa troppo indietro però pure lui poteva fare qualcosa è stato un super 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 miracolo difensivo da parte di Bremer lì è stato bravissimo Bremer ecco secondo me è l'unica cosa scusate una cosa scusate una cosa io l'avevo chiamato per parlare di Cristiano Ronaldo perché tra le altre cose oggi è il 5 febbraio è il compleanno di CR7 ma ci è venuto a trovare anche questo signore qua buonasera Luca Ortelli ciao signore adesso mi offendo solo perché ho fatto 20 anni adesso signora ciao Luca ma la pensi ancora la pensi ancora che Cambiaso è il più forte esterno in Serie A caro Luca sì basta guardare il calcio per sapere che Cambiaso ha ragione Cambiaso è bravo sono d'accordo mio figlio mi ha appena detto ma che è entrato 4 anni è entrato Pavard in diretta mi ha detto adesso mi ha Pavard di 4 a 0 ha segnato Jussen appena arrivato il bambino ha segnato 4 cambi in 3 minuti ma davvero ha segnato Jussen ti giuro cosa c'è il tangolo adesso vabbè dai vabbè dai questo qui a 100 milioni Max Allegri lasciatelo cucinare mamma mia è incredibile in quest'uomo c'è oggi è il 5 febbraio oggi compie 39 anni il più grande giocatore che la nostra storia ma visto che ti eri insomma è riarrivato volevo dirlo volevo dirlo perdona no no ci arriviamo dopo tranquillo ci arriviamo ti ho chiamato apposta però visto che poi comunque tu sei uno dei più conosciuti gioventini del web volevo anche un parere tuo sulla partita se potevi darmelo su Juventus iniziaci Luca su Inter Juve sono curioso sarò sincero io sono da una parte dispiaciuto sono dispiaciuto non tanto per il risultato perché alla fine quello l'ho accettato sono dispiaciuto perché un uomo di nome Max Allegri mi ha fatto credere che fosse possibile vincere lo scudetto lui mi ha illuso perché ha preso una rosa di scappati di casa una rosa comunque più scarsa di quella dell'Inter e l'ha portata fino a febbraio a lottare a pari punti e questa cosa per quanto passi in secondo piano è una cosa terribile perché noi ieri sera c'erano i Juventini che erano convinti di avere possibilità di vincere ieri tu hai avuto Davide contro Golia adesso esagero ma hai avuto una squadra nettamente più forte che gioca a calcio che ha i cambi che ha 11 tolari a livello una squadra che potrebbe competere come ha detto oggi Trevisani poi definitelo voi se è esperto di calcio coglione per me è più la seconda però sta a voi no no è esperto di calcio è esperto di calcio Trevisani ha detto che l'Inter può arrivare tranquillamente in finali Champions a sto punto vi dico una Juventus così che arriva fino a febbraio a franteggiare l'Inter e arriva a giocarsi lo sconto diretto e perde solo 1-0 io ti dico mi dispiace però sti cazzi me la sono fronteggiata è molto preoccupante che gli Ortelli stiamo dicendo le stesse cose io ho aperto gli occhi io ho aperto gli occhi recentemente quando tu dici ce la siamo giocati dove ve la siete giocati con l'Inter ieri sera è stato 1-0 è stato 1-0 è solo sul risultato ragazzi è stato 1-0 ma è risultato allora quando sei soltato 1-0 Salvatore un calcio d'angolo un episodio quant'è la siete giocata voglio voglio capire dove ve la siete giocata rimanendo su 1-0 Salvatore io stamattina ho ricevuto messaggi della Juventus che si è presa a pallonate se diciamo che la Juventus è stata presa a pallonate non guardate la Juventus 4 occasioni nitide che l'Inter poteva fare 4 gol ok io ti dico io ti dico la Juventus è venuto Sommer ieri ha preso il caffè al bar e non ha fatto una parata quindi io sinceramente non capisco dove la Juve se l'è giocata con l'Inter poi oh va bene io poi vi ascolto ti spiego magari nel linguaggio suo voleva dire che ha limitato i danni questo ah che ha limitato i danni ok io non sono mai stato sicuro che la Juve potesse fare male all'Inter in 90 minuti 0 solo il tiro di Gatti che è uscito di poco oggettivamente ok io ti dico la Juventus ha fatto la sua classica partita la Juventus è una squadra che anche contro il Lecce anche contro il Bologna ha 4 occasioni a partita ha 3 occasioni a partita non è che con l'Inter ieri non si è giocata ieri ha fatto la partita che doveva fare semplicemente tu hai avuto 3 occasioni veramente pericolose nel primo tempo quella di Vlaovic poi hai avuto il tiro di Kostic che al cero punto non entrava il tiro di Gatti e poi all'ultimo c'è Cambiaso che mette per Vlaovic poi non mi ricordo cosa succede ci sono 4 occasioni potenziali da gol che se la Juventus usa leggermente più l'attenzione fa 1 a 1 la Juventus ieri finisce 1 a 0 poteva finire 4 a 0 ma poteva finire 1 a 1 e se finisce 1 a 1 nessuno può dire niente perché la Juventus quante volte ci ha abituato a fare 3 4 occasioni mentre magari le altre squadre ne facevano 20 ma poi comunque vinceva o pareggiava cioè io ieri non mi aspettavo una Juventus che faceva 20 ti rimporta io lo sapevo già cioè se non arrivate a capire da soli che ieri era una partita in cui l'Inter avrebbe fatto la partita 20 occasioni 10 occasioni pericolose e la Juventus magari 2 o 3 spiegata così è un altro discorso spiegata così ok allora Vita le posso dire ma ce la sono giocata ce la sono giocata perché abbiamo fatto quello che potevamo fare salvo perdonami salvo se tu ti aspettavi una Juventus che faceva 5 occasioni 10 occasioni in porta neanche con Lecce neanche in casa col Frosinone abbiamo fatto così però tu hai detto io la Juve fa anche con Lecce anche col Frosinone prima 3 occasioni le fa per partita e ci può stare perché comunque ovviamente la Juve ha i giocatori per far però ieri Luca oggettivamente una un'occasione 3 se vuoi ok quindi il mancato stop di Vlaovic se la vuoi contare come occasione salvo lì sei un attaccante quale 1 a 0 e ti dico di più se lì Vlaovic segna la partita finisce 1 a 0 perché poi la Juventus si chiude punto 1 a 0 1 pari ok quindi Vlaovic è un'occasione poi la seconda Gatti e la terza Kostic Kostic è arrivato a tirare lì c'è stato un miscuglio e lì sei per caso cioè il McKennie e Vlaovic che se per caso uno e due ci mette il piede lì 1 a 1 perché poi ti dico salvo qual è stato il punto debole perché molti non l'hanno detto e ci tengo a dirvelo io la Juventus si riperde perché prende gol nel primo tempo la Juventus non è abituata a prendere gol nel primo tempo la Juventus se vedete ogni big match ogni big match tranne la Fiorentina dove però ha segnato si ha preso un gol nel secondo tempo la Juventus il primo tempo fa 0 a 0 lo 0 a 0 nel primo tempo è fondamentale per portarla a casa tu te nevi lo 0 a 0 mentalmente c'eri ancora secondo tempo subentravano i cambi e la portate a casa se finiva 0 a 0 io sono convinto Luca ti rispondo su questo cioè il paradosso è che una grande squadra perché poi questo qua ce lo dice la storia del calcio deve avere anche la capacità di saper reagire a certe situazioni vabbè ma noi non siamo una grande squadra perdonami Francesco no ti stai giocando lo scudetto quindi poi i fatti dicono che sei non era previsto giocarti non era previsto giocarti Francesco perdonami tu mi fai un complimento tu stai facendo un complimento tu mi stai definendo grande squadra mi stai dicendo che sto competendo per lo scudetto ad agosto c'eravamo io e il don io e il don che dicevamo magari vinciamo lo scudetto magari ma tu ti ancora non è finita Luca Luca ancora non è finita sì ma Salvatore ragazzi ragazzi scusatemi mi sembrate veramente cioè vuol dire che allegri no 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 aspetta tu dici grande squadra che abbassimo il mio terzino e non dice dici che non siete una grande squadra no mitologico attenzione attenzione a settembre tu avevi una squadra con Cambiaso che arrivava dal Bologna e non mi era niente di che avevi Gatti arrivava dal Frosinone arrivava dalla Serie C niente di che avevi Kostic che da un anno faceva schifo al cazzo avevi McKenny che non si poteva vedere giocare a calcio avevi Ildis che non aveva fatto una presenza in Serie A avevi un sacco di punti di domanda avevi Chiesa però sì Chiesa che tornava dall'infortunio ho ancora notato Milik che è un bel che è un bel attaccante sì però mitologico a settembre c'è il Bremer che l'ha pagato 50 milioni era stato il miglior difensore però ti ripeto cancella questo periodo è uno dei miglior difensori della Serie A quindi che cosa c'è Chiesa che probabilmente è il miglior portiere della Serie A che cosa non è parlato però però mitologico questo adesso a settembre attenzione a settembre se tu confrontavi le rose ragazzi stiamo d'accordo che se a settembre tu confrontavi le rose tra Juventus e l'Inter ti veniva da ridere dicevi è impossibile dai è impossibile a settembre c'avate ancora Pugba e fagioli e ve lo ricordo ok togliamo Pugba e fagioli togliamo Pugba e fagioli per di più senza Pugba e fagioli a settembre ti veniva da ridere adesso cosa è successo è successo che mentre Inzaghi ha fatto il suo lavoro niente di più niente di meno perché Inzaghi ha fatto quello il suo lavoro quello che gli aspettava ha fatto quello allegri ha preso una scuola che insomma ha valorizzato quando è arrivato quando è arrivato Turam non era previsto che c'era Turam non è un giocatore di calcio se qualcuno pensa che Turam può giocare a calcio sono cinque anni che l'Inter è la scuola più forte del campionato sono cinque anni sono cinque anni che l'Inter è la scuola più forte del campionato quanti squadri ha vinto in cinque anni? uno è arrivato il finale di Champions e ha vinto quattro copri sono tre anni che Inzaghi ha la scuola migliore del campionato stiamo parlando sempre di questo ragazzi non ha vinto in cinque anni però aspetta un attimo in cinque anni una finale di Europa League una finale di Champions League tre supercoppe italiane due coppe italiane uno scudetto e Movedi quindi proprio proprio così il ciclo dell'Inter cinque anni è proprio così la Juventus in cinque anni cinque scudetti quattro coppe italiane tre supercoppe due finali di Champions due possibili triplete ma sono d'accordo ma non puoi paragonare quella squadra che avevate con quest'Inter ah no come no ma veramente vuoi paragonare quella squadra ma sicuramente sì ragazzi ragazzi ma mi hai ricordato l'Iventus del 2016 no no aspetta calmo calmo nel 2015 ragazzi nel 2015 Tevers Pugba se ne vanno tutti nel 2016 non abbiamo nessuno io da interista non paragono mai la squadra che arriva in finale tutte e due con quest'Inter ma mai proprio ma come no avevi ma cazzo avevi Buffon e Isommer avevi Barzaghi Bonucci e Chiellini ma stai scherzando ma Barzaghi aspetta salvo però scusami prendi il contesto storico Barzaghi Chiellini e Bonucci venivano da zero sono stati vabbè Chiellini veniva da zero no 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 non veniva da Chiellini è stato costruito negli anni Chiellini da zero Chiellini in Barzaghi che possiamo parlare Chiellini è stato costruito alla Juve Chiellini è stato costruito nel ciclo della Juve 2015 era già uno dei di ma perché veniva dal 2011 2012 la squadra della Juve è stata non è a livello bastoni non è uno dei migliori braccietti sinistro ditemi adesso ditemi un braccietto sinistro ma veramente dimmi un braccietto sinistra in questo momento no no in tutto il mondo dimmi un braccietto di sinistra è una difesa a tre vai trovamelo Francesco io ti voglio ti voglio bene noi giochiamo con Cialanoglu noi giochiamo con Cialanoglu che può essere voi giocavate con Pirlo ma di che stiamo a parlare dai esattamente è esattamente la stessa cosa in questo momento Cialanoglu come la stessa cosa Cialanoglu posso dirlo posso dirlo nel 2000 Pirlo del 2015 è inferiore a questo Cialanoglu no 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 cosa dici voglio bene no 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 perché quindi ma mi sa ragazzi vi giuro io sembro te la ricordi il centrocampo della Juve contro il Barcellona a Berlino ma tu l'hai visto ieri cosa faccio ma tu l'hai visto gli fa un passaggio d'esterno a giro c'ha ragione ragazzi c'ha ragione ma non sta dicendo ma non sta dicendo ragazzi sta dicendo che Pirlo la Juve giocava con Pirlo Pobà Vidale e Marchisio non ce n'è uno non ce n'è non ce n'è uno sei un sei un buciardo Barella e quattro volte Marchisio quattro volte Marchisio ma che cazzo state dicendo dove gioca sta arrivando anche Nuzio Tapaz ma dove gioca dove giocano i giocatori dell'Inter oggi è forte quanto era forte ma chi è la verità è la verità è la verità ma ci dimentichiamo scusatemi ma ci dimentichiamo che quest'Inter l'anno scorso ha fronteggiato al Manchester City mamma mia ma infatti non le guardano i partiti non le guardate voi perché leggete nomi regate salvo salvo leggete io non guardo le partite io non guardo le partite salvo salvo ti prego scusatemi un secondo fammi capire salvo fammi capire vediamo fin dove siamo d'accordo siamo d'accordo che l'Inter ha la rosa più forte del campionato in questo momento si ma non la puoi paragonare con quella Juve punto parliamo di quest'anno parliamo di quest'anno ma parliamo di quest'anno sono d'accordo ma da Juventino da Interista non posso paragonare la Juve del 2015 e il 2017 che arriva in finale questa è la vostra mentalità Francesco mamma mia vi cacate addosto vi cacate addosto no non siete vi cacate addosto Francesco mi puoi prendere la formazione facciamo un confronto facciamo un confronto annunzio padula alias tabaz buonasera è sempre un piacere essere qui con voi Sommer Sommer è arrivato solo nel caos Sommer Sommer Buffon Sommer Buffon vai Sommer Buffon quel Buffon quel Buffon ha 30 anni va bene nel 2017 arriva la quarta torna d'ora nel 2015 porta la Juve in finale Buffon Barzaghi Bonucci 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 e Chiellini Pavard Tego Chiellini Tego Chiellini basta gli altri due li butto via ma come gli altri due li porto via ma no quindi tu prendi Pavard e Acerbi mi dispiace ma veramente cioè tu al posto di Barzaghi Bonucci e Chiellini tu prendi Pavard Acerbi con tutto il rispetto e Bastoni no Barzaghi Bonucci e Chiellini Acerbi Bastoni e Chiellini Acerbi Bastoni Acerbi Bastoni dai Acerbi no Acerbi non lo posso Acerbi no Acerbi se hai preso Alan Alan se l'ha messo in tappe l'anno scorso c'è sempre che si è preso Alan ma cosa vuol dire che Barzaghi non è riuscito a marcare un coglione come Neymar Junior giocatore più sopravvalutato della storia del calcio si però Luca si può giudicare un giocatore dalla singola partita perché è vero che Acerbi fa quella super ma io infatti stavo parlando di un altro discorso però Barzaghi ha fatto una super carriera ma Franci non sto dicendo questo io sto prendendo però ragazzi noi stiamo prendendo i giocatori quel lato comunque Salvo perdonami seguimi un secondo quel ragionamento ma noi stiamo parlando di quella Juve non stiamo parlando di quest'Inter quest'Inter io voglio parlare di quella Juve non c'è persone per me va bene io voglio parlare di quest'Inter voglio sapere cosa pensi tu di quest'Inter perché sei d'accordo che la rosa di quest'Inter è nettamente più forte di quella della Juventus? sì ma non c'è nulla di male quindi siamo d'accordo che la Juventus fino a questo momento che è restata a pari punti con l'Inter sta facendo non di un miracolo ma comunque più di quello che potrebbe sì sono d'accordo sì sono d'accordo siamo d'accordo che la vittoria di ieri non è così eclatante ma è un qualcosa che chi capisce di calcio poteva tranquillamente prevederlo ma l'abbiamo detto anche noi l'abbiamo detto anche noi in apertura avevamo detto che magari era più grave pareggiare con l'Empoli in casa piuttosto che perdere assolutamente ma solo perché tu ti fossilizzi sul risultato perché la partita secondo me ha detto un'altra cosa Salvo se finisce una 1 tu non puoi dire niente niente perché la Juventus ha sempre fatto così ogni partita ha fatto sempre così allora va bene guarda Salvo scommettiamo prendiamo Inter-Juventus 2-3 vuoi scommettere che l'occasione della Juventus sono meno di quelle dell'Inter ha giocato in 10 però 75 perché c'era un espulso cazzi loro ho capito allora che paragoni mi fai no per dirti che la Juventus nella storia attacca poco difende tanto gioca di ripartenza sull'errore dell'avversario concretizza molto allora quella Juve c'era Juventus quella Juve c'era Buffon Barzaghi Bonucci no ma lui sta parlando di questa sta parlando di questa ma nel 2-3 ma nel 2-3 c'era Barzaghi Bonucci Poppa Higuain Dipala ma veramente e comunque abbiamo fatto meno possesso di voi sicuro andiamo da Carci poi d'annunzio Taupac e da Kaiser che non hanno ancora parlato volevo sentenziare no allora ragazzi ragazzi secondo me è come fare il paragone Messi-Ronaldo l'Inter attuale e la Juve dell'altra volta cioè è ovvio sono due squadre fortissime la differenza è minima magari la Juve forse un pelo io però volevo dire una cosa a Luca su cui sono d'accordo su tutto soprattutto su Cialanoglu mi sa che è una delle prime volte che ci sentiamo però ti dico come consiglio tu non puoi fare la premessa Cialanoglu è meglio quello del 2015 anche tu no no meglio non lo so io non amo i paragoni però Cialanoglu oggettivamente sta facendo da un anno e mezzo una ragione ma veramente Cialanoglu oggi mette il banchino a Modric c'è il banchino a Modric anche un Giuseppe Rossi Giuseppe Bianchi Turam non sa nulla di calcio io lo prenderei e dirà questo togliamoglu la patente social non facciamolo partecipare a nessun altro e poi ha detto solo cose giuste quindi c'è capito nel giudizio perché poi forse esagerato ti rispondo Turam oggettivamente non è baffè non è caldo però io Turam mi ha dato la sensazione di essere un giocatore che sta a treblare ha la sensazione del gol della posizione si sta a mettere in area di rigore ma non può calciare in porta non è capace non è abilitato non ha cioè Turam ieri se sei al posto di Turam tu metti un vabbè guarda ti dico uno si man dai uno si man tu metti uno si man al posto di Turam mi ricordate quando mi ricordate quando si è buttato in area quando arriva e fa la Michael Jackson move che arriva e fa la Michael Jackson move che si lancia e si lascia cadere cioè ma Turam lì rientri calci a giro fai un gol Turam c'è l'uso col Milan è un pacco è una roba che ma neanche al Bologna può giocare è una roba è scandaloso a Turam c'è un interesse di gioco assurda fortunatamente Ortelli si è ripreso Ortelli si è ripreso e dice solo cazzata adesso meno male è tornato a Ortelli no Turam è forte Turam è forte però donna a te piace Turam donna a te piace Turam per me è un bel giocatore si cosa intendi bel giocatore attenzione è un giocatore che ha grossissimi margi miglioramento è un giocatore che in questa inter è assolutamente fondamentale importantissimo sei d'accordo che non sa tirare in porta? no se tu dici che Turam non sa di là in porta Vlauvi c'è un mezzo giocatore non sa sto parlando Vlauvi c'era dimostrato che vale forse 10 milioni allora ok andiamo a sentire anche Nunzio andiamo a sentire anche Nunzio aspetta all'Ortelli si torniamo prego Nunzio no non vorrei trovarmi fuori contesto perché un po' di cazzate le sto sentendo comunque saluto tutti quanti i ragazzi perché prima sono entrato il Don che era pervaso da emozioni contro sabatore boemiche rispetto tra l'altro però parliamo della partita ho sentito Turam ho sentito Cialanoglu paragonato a Pirlo meglio cioè calma meglio che cazzo stai dicendo però Luca lo capisco detto da te ci sta Turam per esempio Turam che è una persona che vale più di Vlauvi secondo me no sottoporta si non ha mai avuto nelle corde i gol non l'ha mai avuto può crescere tanto grandi margini di miglioramento ma non mi pare che sia è un giocatore che a livello futuribile può fare la differenza in questa Inter può fare la differenza potrebbe fare la differenza però paragonato a Plovic calma perché deve fare una stagione come è fatta la Fiorentina per esempio la Fiorentina e Juve anche quello va fatto poi se parliamo della partita invece ragazzi ci da dire che come ha detto Luca qualcuno anche quello che capisce meno di calcio avrebbe detto che la partita di ieri si poteva perdere posso leggervi questa formazione e poi vi lascio il dibattito posso farlo formazione 2017-2018 della Juventus quale la finale no no 2017-2018 della Juventus la formazione più o meno titolare Buffon della Juventus che arriva nel 2017-2018 a giocarci la finale contro il Real Madrid quasi da favorita sto parlando in cuore a Juventus non gioca a questa partita non gioca con questa squadra manca quadrato manca mi pare Daniel Alves manca quadrato quadrato a destra non giocava se giocava Alessandro a sinistra se non sapete se non capite le cose non sapete le cose non giocava ma in finale giocava 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 a Barzagli terzino Salvatore in finale in finale c'era Daniel Alves in finale c'era vai a vedere perché a litigare con Barzagli secondo me quell'anno lì eravamo forti ma tu contro Cristiano Ronaldo non puoi mai vincere arriviamo da giocarci alla pari molto di più rispetto a quella contro il Barcellona ti dico hai più possibilità di vincere col Barcellona che con Real hai più possibilità di vincere col Barcellona che con Real sai Luca perché arrivavamo quasi da favoriti perché disse una dichiarazione Messi qualche partita prima disse se la Juve come ha giocato contro di noi la Juve vince la Champions la Juve era fortissima era forte la Real Madrid ragazzi però ti dico tu togli Cristiano Ronaldo da quel Real Madrid vinci la Champions 100% con quel Cristiano non vinci mai quel Cristiano lì versione prime penso che neanche se unisce Maradona il fenomeno Messi Van Basten alla potenza l'hanno vinta anche senza CR7 trascinati da Benzema quindi poi questo non lo possiamo sapere perché poi esulando poi dalla presenza di CR7 quella è una squadra galattica perché comunque Cross Modric assolutamente però però ti sto dicendo però ti sto dicendo con Ronaldo non vinci senza Ronaldo in campo presti puntato a vincere ma ragazzi non so se vi ricordate non so se vi ricordate Cristiano Cristiano fa Cristiano fa due capolavori il primo allarga la palla su Carvajal Carvajal mette la palla in aria ci sono 5 di posizione del Juventus e c'è solo un giocatore del Real Madrid uno Carvajal la mette a vuoto senza guardare c'è Ronaldo 5 difensori del Juventus e la palla in mezzo la palla la colpisce Ronaldo la mette attaccata al palo il secondo è tutti fermi in aria il secondo è di Ronaldo tutti bloccati in aria a un certo punto c'è senso che si infila tutti i mobili pronti per spazzarla c'era Bonucci Chiellini Barzelli schierati poi c'era Chedira Lemina tutti schierati palla in mezzo non si sa dove cazzo compare Cristiano goli quel Cristiano lì gli bastava un'occasione un'occasione valeva due gol anche con la ormai hanno preso di Mirotelli questo paragone c'ha la Pirlo Don vai a prendere per favore se si può la formazione della finale contro il Barcellona 2015 quella era una super Juventus mi dispiace te la prendo ma quella è una super Juventus costruita da Conte e da Allegri mi dispiace ma non ci sto a questo gioco è la stessa è la stessa Juventus è la stessa paragone che potresti fare con l'Inter ma non ci sono ma i giocatori sono diversi ma sono diversi ma sono diversi quei giocatori con tutto il rispetto per le sono diversi Salvatore ma stiamo parlando di un Pirlo a fine carriera ma vuoi mettere il Pirlo con Ciananoglu diciamo che il discorso aspetta uso un termine che uso spesso in queste live il discorso si può trovare a metà strada parliamo di Andrea Pirlo che non è uno dei centrocampisti più forti della sua era ma addirittura nella storia del calcio se poi però vogliamo incentrare il discorso che Ciananoglu da due stagioni è un giocatore superlativo che addirittura ha superato quelle che erano le sue caratteristiche le sue doti che l'avevano messo in auge non è neanche primo Ciananoglu Franci non è neanche prima però adesso adesso però possiamo dire che Agan Ciananoglu è uno dei top mondiali mentre magari al Milan all'Evercuse ne aveva la patente da ottimo giocatore adesso è un'eccellenza mondiale perché quando poi tu si autoparagona ai grandi attuali secondo me ha anche ragione è cresciuto tantissimo trovatemi una squadra dove non gioca Ciananoglu una squadra dove non gioca Ciananoglu ma veramente mi volete mettere giocano a parte di Rodri oggi è tre volte Rodri Ciananoglu è tre volte è tre volte Rodri ragazzi ma Rodri è forte come Locatelli ha creato Guardiola a me non piace Rodri Rodri prima di Guardiola era come Locatelli è arrivato Guardiola l'ha trasformato era forte io vi saluto ci sentiamo domani scusate c'ho un mal di testo ci sentiamo ciao 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 però prendiamo quella quella formazione vi dico una cosa al volo vi dico una cosa al volo poi andiamo su un altro discorso per quanto riguarda Rodri e Ciananoglu secondo me potrebbero tranquillamente coesistere quindi io è un'altra categoria dai facciamo i seri dai per me sono due top player sono due top player Rodri ti ha fatto la differenza finale Rodri ti ha fatto la differenza finale sono due giocatori ti fa la differenza con la Spagna dai uno alla volta se no non si capisce niente ragazzi scusate sono due giocatori che magari scegliete voi chi è meglio e chi è peggio ma io neanche lo faccio il paragone perché secondo me come vi stavo dicendo potrebbero tranquillamente coesistere ma hanno il comune denominatore che sono giocatori che hanno avuto un'ascesa graduale entrambi perché Rodri dall'Atletico Madrid poi è cresciuto al Manchester City mentre Agan Ciananoglu rispetto a quando era il giocatore di Leverkus e neanche del Milan all'Inter è diventato un non plus ultra che prima non era cambiando ruolo ok però Rodri è un'altra categoria dai facciamo i seri io torno tra dieci minuti devo fare un attimo andiamo da Kaiser che non si è espresso ancora sulla partita tra l'Inter e Juventus ero presissimo da qua sarò breve l'Inter ha stuprato la Juventus 90 minuti ha avuto mezzo termine su quel contropiede che ha sbagliato Vlauic e qua si vede la differenza tra un campione e un buonissimo giocatore il campione anche se gioca 50 metri alla porta non tocca mai un pallone quella quella palla fa gol Vlauic sbaglia lo stop in modo incredibile senza dentro la di rigore per quanto riguarda io non glielo ho collato quello stop forse è l'unica relazione della Juve ma anche Lautaro comunque ieri ha giocato male sì però l'Inter ha fatto un partitone cioè proprio devastante in contropiede saltava l'uomo sempre dentro della Juve ma poi Cesti fa due miracoli insomma non fa una parata Cesti fa due miracoli assoluti quello tira fuori cicca al pallone salvataggio di Bremer Di Marco due volte la svirgola quelli sono gol che Di Marco fa di piatto di solito per quanto riguarda Turam la via preferisco parlare di una via di mezzo non lo reputo un pacco assolutamente forse lui è estremizzato un po' il concetto ma voleva intendere che magari è meno di quello che la gente pensa sia Turam è un discretissimo giocatore un buon giocatore non è neanche un numero 9 ora sta giocando da numero 9 perché Lautaro è imprescindibile in quella zona e stanno allenando tra virgolette perché Turam parte esterno ha sempre giocato esterno anche con la Francia era il primo cambio sugli esterni per quanto riguarda Pirlo Cialanoglu Cortelli figlio mio cioè la metà degli anni miei ho visto Pirlo ho visto il calcio proprio totale c'è una pista più forte di italiano proprio su tutti in assoluto proprio Cialanoglu penso neanche se muore rinasce 4 anni arriva a giocare minimamente a pensare a giocare a livello di Pirlo con tutto il rispetto in un calcio dovevi capirlo ma anche Nuzio esatto ma anche i prime di Vidal e Pogba nella finale a Berlino ma con tutto il rispetto Barella e Michiteran non ci arrivano no in italiano è un'altra cosa il prime Barella prime Vidal non c'è partita proprio Vidal gli fa 4 a 0 Prime Michiteran e prime Pogba ma non c'è ma non c'è paragone perché poi Michiteran giocava in un altro ruolo Michiteran l'ha inventato in quella zona di campo lo scorso anno cioè due anni fa insomma l'ultimo anno che ha giocato la Roma Murigno che poi era il primo anno di Murigno Michiteran veniva da una stagione che aveva fatto doppia cifra di gol giocando esterno alto a sinistra ha iniziato la stagione lì non rendeva più perché non può giocare in quella zona di campo un giocatore a parte piccolino però non aveva più il passo per giocare in quella zona di campo l'ha reinventato centrocampista centrale intermedio nel centrocampo a 5 ha fatto benissimo e poi ha deciso di andare via ragazzi purtroppo quando i giocatori non è un signor giocatore Michiteran è tra i 5 più forti del campionato però Kaiser quella squadra lì della Juve non è minimamente paragonabile con questa Inter o con l'Inter della finale io non sono d'accordo neanche che Bastoni sia il miglior braccetto sinistro per me Bastoni mai detto neanche io anzi addirittura Simo Lenzaghi preferisce Acerbi a Bastoni perché quando fa il turnover andeva a Bastoni mette Acerbi a braccetto sinistro e mette De Vrij centrale gioca Bissec gioca Bissec cioè non la vedo Bastoni forte ma non è paragonabile a quei mostri aspetta l'Inter attualmente è ingiocabile ragazzi non mi fraintendete il paragone con la Juve non regge ma attualmente l'Inter è ingiocabile sotto il punto di vista ma anche perché si è livellato verso il basso il campionato italiano e poi è ingiocabile no ma il campionato italiano che si è livellato verso il basso lo dicevo anche nella scorsa puntata quando parlavamo delle quattro vittorie consecutive della Lazio e io sottolineavo il fatto Bohemi era in disaccordo con me che la Lazio sempre quando parli di Maurizio e di Lazio sono sempre disaccordo io avevo detto che la Lazio le quattro vittorie di fila l'aveva fatte perché era basso il livello del campionato italiano perché Empoli Frosinone e Lecce erano state vittorie agevolate dalla caratura dell'avversario io questo avevo detto poi anche l'Udinese c'era stata nel mezzo e poi infatti si è visto quando si è alzato il livello la Lazio è tornata la vittoria sembra una vittoria Vitale tre punti sono sempre tre punti sì sì sono d'accordo con te Luca però è anche vero che il campionato italiano è sceso ma magari si è abbassato però ti dico se la Juventus appunto avesse pensato la stessa cosa con Empoli col Genoa con l'Atalanta e con il Sassuolo tu adesso stavi a più contando che molti sono pareggi due quattro sei sei aggiungi nove stavi a nove punti il più sette dell'Inter potenziale stavi a più due se non perdere questi punti anche con la sconfitta di Milano e anche col pareggio con l'Inter però sei guarda vado anche su questo Luca e coinvolgo anche Nunzio secondo me i punti che pesano di più sono il Sassuolo perché l'hai persa proprio male e l'Empoli in casa vabbè il Sassuolo c'è la persa anche l'Inter più che altro ti pesa con l'Empoli pesa un botto perché viene proprio prima della partita decisiva presa un botto a livello mentale tu prendi proprio una botta allucinante poi abbiamo fatto passare la Juve come mediocre la Juve non è per niente mediocre l'Inter è leggermente più forte della Juve leggermente leggermente ha una fluidità di gioco aspetta Luca ti spiego perché a centro campo l'Inter ha una fluidità di gioco spaventosa perché ha interpreti molto diversi dai nostri vedi Alcaraz che in 5 minuti diventa il migliore del campo della Juve 5 minuti perché comunque riesce a verticalizzare e a prevedere quello che riesce a fare un giocatore dell'Inter non passando una palla bassa ma passandola alta quindi questo ci fa capire quanto una mezzala di qualità ti manchi in questa Juventus l'Inter è superiore della Juve a centro campo perché non mi dite che una squadra come la Juve non può puntare a vincere lo scudetto con una sola competizione un attacco che fino a poco cioè fino a poco fa prevedeva anche Ken insieme a Milik Vlaubic e Chiesa oltre al Litz due portieri che sono titolari ovunque e una difesa sì che non è il massimo della vita ma comunque ha detto la sua perché Bremer è comunque il giocatore che due anni fa era il dimensione più forte della Serie A Danilo ha giocato ieri è stato il migliore in campo della Juve insieme a scelta di Bremer aspetta Bremer ieri è stato annullato è stato annullato il suo l'ha fatto per carità però quello è un capolavoro di Simone Inzaghi ragazzi perché Lautaro viene annullato di proposito perché sapevano che la Juve avrebbe fatto avrebbe bloccato Lautaro e cosa hanno fatto? se l'è portata a spasso se l'è portata a spasso in modo tale che negli inserimenti Mkhitaryan to Ram potevano andare contro Danilo e Gatti sapendo che potevano subire la velocità di entrambi quello è Mughini però ti dico una cosa ti dico una cosa poi scappo Franci andiamo al volo su Cristiano Ronaldo andiamo al volo su Cristiano Ronaldo fammi dire solamente questa cosa io ti dico ora come ora oggi posso parlare del fatto posso parlare del fatto che le due rose possono avere un confronto forse ti dico l'Inter è superiore assolutamente senza però posso dire ad oggi forse leggermente siamo sotto con più o meno distanza ma quel è il punto il punto è che tu devi partire da settembre a far questo discorso a settembre quando perdi i fagioli e i purba la differenza tra le rose è abissale poi Allegri cosa fa Allegri riesce a migliorare a potenziare dei giocatori che a settembre erano dei punti di domanda come Cambiaso come Gatti come Kostic come McKennie come alla fine Chiesa non è mai rientrato ma alla fine possiamo dire il Diz scopre giocatori migliora altri e riesce a giocarsela ma se la Juventus fa quelle che erano le aspettative quelli che tutti hanno detto perché adesso non nascondetevi se la Juventus avesse rispettare le aspettative noi ora saremmo terzi a meno di città l'Inter e invece siamo lì in questo momento ancora vicini campionato aperto non lo so Salvatore ti dico forse sì forse no la Juventus vince lo scudetto solo se lo buttate via l'Inter se lo buttate via lo vinciamo perché saremo lì attaccati ma senza un vostro suicidio noi non possiamo mai vincere beh è già successo una volta che l'ha vinto il 5 maggio cioè lì l'ha buttato via l'Inter io ti dico per quanto a settembre non c'era confronto oggi il confronto lo puoi fare ma vince sempre l'Inter io non vedo una Juventus che sia in grado così nonostante la sola competizione invece tu di restire a recuperare l'Inter perché l'Inter farà pochissimi passi falsi e noi non siamo così forti come loro sul gioco ci battono sulla rosa ci battono sulla panchina ci battono cioè panchina inteso le riserve l'unico punto debole dell'Inter l'ho sempre detto è Simone Inzaghi che per l'amore del cielo è un bidone cioè Simone Inzaghi sta al calcio come maggiore della figa è una roba in batola no 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 fermo fermo formazione diversa ogni giorno rosa vince cioè Allegri sta Allegri e Inzaghi chi li confronta non può parlare di calcio non può parlare di calcio anche per i 50 che parlano di calcio Luca 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 ma che fai a dire questo no 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 scusami fra perché ti dico è vero che partiamo da settembre hai ancora Pogba e Fagioli come fai a non pensare di poter vincere con una competizione di poter provare Coppa Italia è sempre stato un obiettivo sì ma diciamo che è sempre stata sempre un po' snobbata anche se la Juve c'è arrivata in fondo è vero c'è arrivata molte volte in fondo e l'abbiamo vinta però ti dico con Pogba e Fagioli è una competizione barra due competizioni con la Coppa Italia che era già alle porte di dicembre non ti saresti immaginato tu una Juve con una sola competizione con questa squadra metti Fagioli e Pogba almeno a lottare come sta facendo adesso a lottare sì ma non così non mi sarei mai aspettato di arrivare a San Siro a meno uno meno due mai mai quello forse ti do ragione perché avrei lottato avrei lottato ma a febbraio pensavo a febbraio stavo a meno cinque stavo a meno sei venivo a giocarmela così la Juventus ieri se la gioca con l'Inter e se per caso pareggia tu rimani a meno uno meno due ed è un miracolo l'Inter ripetiamo l'Inter sta facendo semplicemente il suo dovere e Juventus sta overperformando per merito di Max Allegri sta facendo quasi un'impresa l'impresa l'avrebbe fatta se avessi vinto ieri non ha vinto non è più l'impresa certo centrocampo effettivamente stiamo con le pezze al culo Alcaraz speriamo porti questa questa brezza ma tanto Alcaraz come operazione sei d'accordo che non ha senso come operazione non lo riscatterei mai effettivamente non ha senso perché a quelle cifre io non pago un coglione argentino 50 milioni cosa sono cretino infatti io che cosa ho detto io ho fatto una storia su questo a me sembrava molto un rattoppo per dire ce ne mancava uno abbiamo peso gratis lo paghiamo a luglio il prestito sti cazzi e va bene però pensaci bene è un diretto quindi se ti va bene su questo giocatore c'erano altre squadre poi ho valutato meglio se a giugno lo vuoi riscattare è chiaro che ti presenti dicendo parliamone 50 col cazzo te li do 50 col cazzo ti fa lo sconto assolutamente perché l'hanno detto anche i migliori operatori di mercato come Gianluca Di Marzio un esempio faccio un nome a caso che hanno detto è un'operazione fatta in talmente poco tempo che non c'è stato modo di poter prevedere quindi le cifre sono state messe per essere tutelate e basta poi soprattutto Nunzio al volo attualmente i Saints Southampton giocano in championship se dovessero rimanere in championship non ti chiedono 50 milioni chi cazzo te li dà 50 milioni fratello non te li dà nessuno non te li dà nessuno però invece è stata un'operazione intelligente proprio perché la Juve non ha nessuno con le stesse caratteristiche